Mi chiamo Amina, mia figlia ha 15 anni ed è incinta. L'ho espulsa perché questo danneggia la nostra immagine. Anch'io sono stata espulsa da scuola. La mia famiglia mi ha cacciata perché ero incinta. Non voglio essere come te, mamma. Tutti ti guardano come se fossi una poco di buono. Mamita, dimmi chi è il padre. Gli farò assumere tutte le sue responsabilità. Io non lo voglio. Sai bene che non è possibile. Amina, che succede? Non ti vergogni. Avete bisogno di un uomo che vi protegga. Non abbiamo bisogno di nessuno. E io la salverò. Grazie! Grazie.